Le lotte per il divorzio, l'aborto e la parità di salario. 40 anni di battaglie del movimento femminista Campano, protagonista della mostra Feminismo e Movimenti delle Donne a Napoli in Campania 1968-2018, allestita nella Biblioteca Nazionale di Palazzo Reale a Napoli, promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale della Campania in collaborazione con la Commissione regionale Pari Opportunità. L'itinerario della mostra si sviluppa in sette teche tematiche che documentano la storia del movimento dagli anni 60 ad oggi attraverso testimonianze e materiale iconografico e multimediale della Biblioteca, in particolare del Fondo Soggettività Femminile. Abbiamo ascoltato la responsabile Maria Iannotti, vice direttrice della Biblioteca Nazionale. Creare questo fondo per dare voce al significato mancante, cioè a quella parte della saggistica, editoria eccetera, che in qualche modo mancava in Biblioteca ma che però si doveva relazionare con il resto delle raccolte della Biblioteca. La mostra è stata inoltre oggetto di un dibattito a cui ha partecipato la Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio. Abbiamo voluto che soprattutto i ragazzi e le ragazze di oggi avessero un punto di vista delle donne dal 68 ad oggi. Quindi una mostra che ripercorre la storia del movimento delle donne, molto bella, fatta davvero con passione e anche a costo zero, diciamo perché c'è la mano di Luisa Festa nelle tante manifestazioni, nelle tante iniziative che si sono svolte soprattutto nella città di Napoli ma in tutta la regione Campania.